Gravissimo lutto nel mondo del cinema, è morta infatti Francesca Kite Natividads, bellissima ballerina, diventò una figura di riferimento, pensate che fu scritturata dal regista del film Russ Mayer per la pellicola Benet The Valley of the Ultra Vixens del 79. La donna soffriva di un tumore, si è spenta a Los Angeles a 74 anni di età, era anche un'attrice ovviamente parlando, aveva un cancro al seno, precisamente una mastectomia, rimozione del seno nel 99, era nata in Messico a Ciudad Juarez nel 48, poi andò a trasferirsi in Texas e poi in California diventò una cuoca, una cameriera. E diventò però anche una ballerina e assunse il nome di arte chiamato Kitten, era molto conosciuta sebbene di poche persone ne parlavano di lei, pensate che ebbe l'idea a 21 anni di operarsi al seno, se lo fece ringrandire, ebbe una storia con Russ Mayer, questo famoso regista americano che la volle per diversi ruoli a livello cinematografico. Se ne va, ripeto, purtroppo, a 74 anni. Il video termina qua, Natividads, ossia Kitten Natividads, che tu possa riposare in pace, questo video non vuole levare la sua privacy né di altre persone, ma solo informare e basta. Ciao a tutti.